Più verde, più alberi e più piste ciclabili con i 5 milioni di euro stanziati dalla regione per finanziare i primi 20 progetti del bando Verde Urbano e Piste Ciclabili, promosso nell'ambito della strategia regionale Toscana Carbon Neutral, che punta a raggiungere l'obiettivo della neutralità di emissioni clima alteranti entro il 2050. Al bando hanno partecipato 53 comuni presentando 55 proposte. Erano 63 i comuni toscani che potevano presentare progetti, cioè quelli che presentano maggiori criticità in relazione ai livelli di qualità dell'area, principalmente città o grandi agglomerati urbani. La maggior parte della CO2, che è il responsabile principale dei cambiamenti climatici, viene prodotta dalle città. Ben il 70% dell'anidride carbonica globale, è prodotta nelle città ed è anche vero che le città da qui al 2050 accoglieranno il 70% della popolazione e quindi diventano, lo sono già ma ancora di più, la frontiera della lotta ai cambiamenti climatici, che deve prevedere azioni di prevenzione ma anche azioni di resilienza, di adattamento. Con questi primi 20 progetti saranno piantate oltre 18.000 specie di cui 7.000 alberi in grado di assorbire 7.400 tonnellate di anidride carbonica. Gli alberi sono un filtro naturale, lo sono ancora di più se vengono piantati vicino alle fonti emissive, in questo caso la città è la principale fonte emissiva come abbiamo detto e quindi abbiamo deciso di finanziare per 5 milioni di euro progetti dei comuni che andassero in questa direzione. I 5 milioni a disposizione permettono per adesso di finanziare i primi 20 progetti in graduatoria, ma la Regione prevede di finanziare nei prossimi anni tutte le domande ammesse. I 19 comuni che riceveranno i finanziamenti sono nelle province di Firenze, Arezzo, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato.